buonasera a tutti i telespettatori di le fonti tv e ben ritrovati continuano i nostri appuntamenti televisivi dedicati alla premiazione al riconoscimento delle eccellenze del nostro territorio e tra le realtà che si sono distinte nel panorama attuale oggi avremo modo di premiare qualcuno di veramente interessante ma io non voglio rubare altro tempo e quindi procediamo con la nostra premiazione macro categoria imprese categoria innovazione and leadership il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership health and beauty andiamo a leggere la motivazione per essere una società di network marketing rivolta al benessere fisico ed economico per gli elevati standard nel produrre internamente il principio attivo base di tutta la linea dei prodotti commercializzati per la capacità di cogliere le esigenze del mercato e per offrire le più ampie garanzie sui suoi prodotti il premio va a evergreen life products ed è un piacere avere in studio con me tra poco li vedremo i protagonisti di questo riconoscimento claudia pesle direttore generale luigi pesle vicepresidente amministratore delegato che invita a salire sul nostro paese grazie per essere qui grazie sempre bello avervi di presenza no quando si danno dei riconoscimenti vi prego di accomodarvi e questo è il vostro premio infatti guardiamo c'era un po vedevo che in realtà guardavate più il premio che me ma giustamente ma non non vi preoccupate perché poi sarà vostro quindi adesso lo lasciamo sul nostro insomma piedistallo per ammirarlo in tutto il suo splendore ed è insomma che dire prima la domanda di rito è sempre la stessa io partirei da claudia cosa significa questo riconoscimento per voi sono un commento a caldo grazie grazie mille intanto vi ringrazio per il premio per il riconoscimento devo dire che è un grandissimo piacere e in particolar modo mi fa molto piacere che un premio di questo tipo vada ad un'azienda come noi del settore del network marketing della vendita diretta perché soprattutto in italia ancora oggi c'è un po di resistenza rispetto a questo mondo non viene ancora riconosciuto ed apprezzato in toto c'è ancora è ancora poco conosciuto e quindi credo che delle degli organi come voi che mandi diano un premio ad un'azienda di network marketing sia un bellissimo segnale e perché no anche un primo passo per far conoscere sempre di più il mondo della vendita diretta del network marketing in italia e creare una cultura positiva di conoscere che tipo di realtà siamo e che tipo di approccio abbiamo con i nostri clienti e con i nostri collaboratori incaricati di vendita mi piace il discorso della cultura positiva legato proprio a questo aspetto no perché a volte non ancora sembrerà strano dirlo ma non si conosce esattamente come si compongono poi tutti gli step che portano effettivamente ad avere a che fare con il cliente e vorrei capirlo insomma insieme a voi anche approfittando delle parole che abbiamo sentito e ascoltato nella motivazione per capire qual è la vostra mission quale quale la direzione che state seguendo sempre di più e i progetti che avete in cantiere insomma certo beh grazie ancora per questo importante riconoscimento sono molto contento siamo molto contenti e la nostra azienda è nata dieci anni fa da quella che è stata un sogno fondamentalmente del nostro presidente che è anche nostro padre Livio Pesle il quale avendo creato questo prodotto questo integratore alimentare questo infuso di folio d'olivo voleva poi approcciarlo al mercato da lì poi è nata la collaborazione insieme a me che abbiamo fondato insieme evergreen life products proprio per poter riuscire a portare questi prodotti questo prodotto in particolare il nostro integratore alimentare a quante persone possibili consapevoli dei grandi benefici che questo tipo di integratori alimentari basati sulla dieta mediterranea basata sull'olivo basata sulla nostra storia anche come nazione come mediterraneo e possono veramente dare grandi benefici alle persone da lì è nato tutto da lì abbiamo cominciato dieci anni fa e abbiamo sempre continuato e sempre continueremo questa attività con una missione specifica ovvero riuscire a fare il meglio possibile a livello di prodotti sempre mantenendo uno standard qualitativo sempre all'eccellenza anche nell'apertura e ampliando la gamma come stiamo facendo in questi anni e quindi introducendo nel mercato sempre nuovi prodotti che siano attenti alle esigenze dei consumatori il bello di questa attività come diciamo prima la vendita diretta al network marketing è la possibilità di avere continuamente un feedback dal consumatore e quindi riuscire a capire a cogliere le esigenze del mercato e questo ci sta dando grandi soddisfazioni in termini di crescita in termini di sviluppo in termini di nuovi collaboratori e tante persone che cominciano questa attività che ottengono grandi risultati in questa attività e che trovano un ambiente stimolante positivo diventa una vera e propria comunità no anche perché ci si lega proprio alle esigenze di chi si ha di fronte di conseguenza ci si scambia delle opinioni delle idee non è cosa scontata no perché viene valorizzato il capitale umano esatto esattamente esattamente quindi è in questo una domanda un po fuori programma però insomma che credo che si associa a quello che stiamo dicendo in questi due anni particolarmente complicati cosa avete imparato da questi due anni così complicati insomma perché poi è vero i contatti sociali sono si sono limitati però forse c'è stato più bisogno no di chiedere esatto bisogno di un contatto esatto quasi quotidiano molto maggiore rispetto a prima e la cosa che mi ha piacevolmente colpita è che il calore umano di un rapporto umano non si ferma davanti a una telecamera non si ferma davanti a zoom non si ferma davanti allo schermo di un computer anzi moltissimi noi per primi e poi tutti i nostri incaricati di vendita hanno imparato a utilizzare dei sistemi tecnologici che altrimenti probabilmente non avrebbero mai apprezzato e mai iniziato ad utilizzare e attraverso queste siamo riusciti a mantenere un contatto veramente quasi quotidiano di meeting riunioni e anche grandi eventi con migliaia di persone connesse contemporaneamente per mantenere inalterato il rapporto umano che poi è di fatto quello che su cui si fonda una realtà come la nostra che è fatta appunto di rapporti umani e di relazioni umane sono magari cambiate però che si sono fatte insomma mi pare di capire più più salde no vero stessa cosa perfetto e quindi vi chiedo anche questo ormai sapete che avendo preso vinto questo riconoscimento siete entrati un po nel nel mirino delle eccellenze perché di questo si tratta e quindi sarete monitorati è effettivamente una realtà che vale la pena conoscere sempre di più quindi al di là di capire quali sono i prossimi passaggi vostri sarà interessante anche comprendere ancora di più il business e quindi se sarete riselezionati vi ritroverò ancora qui ma noi ce l'auguriamo e faremo di tutto come sempre per arrivare a ottenere questi importanti riconoscimenti e ben volentieri poter portare anche grazie alla vostra voce poter o comunque grazie al vostro spazio poter raccontare un po di più quello che è il nostro mondo e soprattutto quella che è l'economia che sta dietro la nostra realtà che è un'economia fatta di imprenditori di persone che iniziano un'attività e che ottengono importanti risultati anche e che comunque si si amplia si espande aumenta sempre di più quindi credo che sia un settore che può essere interessante per molte persone che infatti si riassume in benessere fisico ed economico come abbiamo letto nella nostra motivazione allora a questo punto potete prendere il premio grazie è più vicino è più vicino a claudia quindi però è assolutamente vostro naturalmente a tutto a tutto il team quindi ringraziamenti e complimenti a voi io ringrazio claudia pesle luigi pesle direttore generale evergreen live products per quanto riguarda claudia e vicepresidente amministratore delegato per quanto riguarda luigi è stato un piacere conoscervi e vi aspetto prestissimo da noi restate qui che adesso chiudiamo insomma godetevi il premio grazie 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 ancora vediamo che bello e noi chiudiamo così questo appuntamento dedicato alle eccellenze del nostro territorio con i nostri le fonti awards naturalmente al prossimo evento e continuate a rimanere sulle fonti tv grazie a tutti